giusto per chiare una cosa a mio amoroso questa è la mia macchina la vedi io no questa è la neve che c'è davanti più o meno qui penso che si dovrebbe essere la riga tra il cofano e lo finestrino cosa davanti questa è quinta caccia nea di fianco questa è poi tutta l'altra che c'è e questa è una delle trincee più piccole e qui ci dovrebbe essere il culo della mia macchina metà maggio dovrei uscire di casa quel culo che vedi là in fondo è il frontiera che lavoro ciao hanno distrutto la trincea bene buonanotte ci ha messo la posta non ci credo impossibile non riesco a tirare fuori la macchina qualcosa mi dice di no loro non la cavano fuori di sicuro ah queste qua ne abbiamo sopra i tetti ah beh hanno disappellito il terrazzino questa è la situazione del trebbio dieci posti auto qui sotto c'è un'automobile c'è la posta qui ci sarà eventualmente un camminamento e qui un olivo bicentenario così come dovrebbe apparire il nostro terrazzino ma come potete vedere c'è qualcosa che non va questo è il massimo che siamo riusciti a fare e abbiamo ufficialmente capitolato non sparerà più nessuno basta non sparerà più nessuno non sparerà più nessuno